E' qui che ho imparato ad andare in skate. Una notte di Natale di tanti anni fa. E' stata un'idea di Lorenzo. A Natale non c'è nessuno in giro. Nessuno poteva vedermi cadere. Così ogni anno, questa notte io e Lorenzo affrontiamo insieme il grande salto. Ed è sempre lui a saltare per primo. Perché Lorenzo non ha paura di buttarsi. Infatti è andato a studiare a Londra. E oggi finalmente torna. Mi ricordo che è partito solo con il suo zaino. E ovviamente la tavola. Siamo andati in stazione sullo skate. E con lo skate... Oggi ce ne torniamo a casa. Dice che la tavola se l'è venduta. Chissà. Forse l'ha barattata per il trolley. Difficile dire cosa sia successo. Qualcosa però è successo sicuramente. Forse sarei dovuto partire anch'io. Avremmo ancora la nostra notte. Tutto qui? Guarda che è un anno che aspetto di vederti cadere. Inizio. Il può essere parte di vederti cadere. Grazie a tutti.